Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è lunedì 22 agosto 2022 e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV, iniziamo insieme la settimana, una settimana ancora di vacanze per chi se lo può permettere, dato che il tempo si mantiene accettabile, fa più fresco questo rispetto ai giorni scorsi e comunque la temperatura rimane più gradevole, quindi la vacanza ancora più agevole. Cominciamo subito la giornata con l'almanacco del giorno e vediamo che oggi non si festeggia un santo ma è una ricorrenza particolare, infatti oggi si festeggia la Beata Vergine Maria nella definizione di regina, regina è una festa questa che fu istituita da Papa Pio XII l'11 ottobre del 1954, questa festa consacra la regalità, così possiamo definirla di Maria, quale redentrice insieme a Gesù del mondo, quindi la regalità, la maestà di Maria per l'opera di concezione che ha fatto ma anche per la condivisione della vita di suo figlio. E veniamo anche alle previsioni del tempo, un tempo soleggiato su tutta la regione Marche, vediamo qui la grafica, avvio di giornata soleggiata nelle Marche, dal pomeriggio ci saranno nubi in aumento da una direzione a oriente dall'est, valori massimi in lieve calo, i venti sono moderati, le temperature si aggireranno dai venti ai 26 gradi e i venti ispireranno da una direzione di nord-nord-est sull'interno da nord-est, quindi una direzione piuttosto debole al momento. Il mare comunque si mantiene ancora mosso, attenzione a fare il bagno se vedete la bandiera rossa. E ora apriamo i giornali, apriamo i giornali a partire dal resto del Carlino che oggi è in edizione regionale, edizione Marche. Vediamo qualche titolo in sintesi in prima pagina, in modo particolare per quanto riguarda Pesaro e Orbino. Campagna elettorale, arrivano i big, ecco Salvini e Meloni che faranno campagna elettorale nella nostra regione. Domani il leader della Lega sarà in città ad Ancona. In piazza Roma, protagonista la numero uno poi dei fratelli d'Italia. Salvini sarà anche a Pesaro. E poi vediamo ancora che la presidente della Confindustria, la Baronciani, pone la sua attenzione sui rischi di impresa collegati al caro vita, collegati al caro delle materie prime, in modo particolare del gas. Un problema questo pressante contingente molto grave che rischia di costringere alla chiusura non poche imprese. A Fano si parla molto della variante di Gimarra, perché sono arrivate le lettere che iniziano, che comunicano l'inizio del procedimento di esproprio. Sono di più delle 90 che erano state annunciate in un primo momento. Vedremo poi l'articolo sui giornali. Ma apriamo, apriamo il resto del Carlino sulle pagine pesaresi. E parliamo subito del Caro Energia. Caro Energia minaccia le imprese. A gennaio rischiamo 20 giorni di stop. A parlare così è Alessandra Baronciani, che è la presidente della Confindustria, dell'Associazione degli Industriali della provincia di Pesaro Urbino. Il comparto manufatturiero e quello del turismo sono i più colpiti. Le bollette di luglio sono cresciute del 50%, pensate, il 50% sul mese precedente. Intanto Leni riposiziona le piattaforme. E speriamo che queste piattaforme, che sono nel mare adriatico, procedono al più presto all'estrazione del gas per contemperare il vuoto lasciato dalle forniture russe. Sopra un generalizzato grido di dolore che giunge da ogni settore, famiglie comprese non solo il settore produttivo, sul problema del Caro Energia, con la CNA che parla addirittura di tempesta perfetta in autunno. Quindi una tempesta veramente grave, disastrosa, che potrebbe scoinvolgere tutto il sistema produttivo. È ormai chiaro che fino al 2024 non potremo sostituire il gas russo, ma servono però risposte immediate, perché da qui al 2024 tempo ne passa. E quindi le imprese non possono aspettare. Speriamo che questo appello giunga da qualche parte e venga ascoltato. E invece su questa pagina vediamo un bel articolo, un bel articolo che rasserena un po' gli animi. Ebbene, sbocciano fiori d'arancio in ospedale al Santa Croce, nella sala d'aspetto del reparto di gastroenterologia. La sposa è Emilia Bibicecchini, che è nota per essere stata la proprietaria del quadro di Isabella d'Este, attribuito a Leonardo, conteso tra l'Italia e la Svizzera. La vinta la Svizzera percorre il quadro, si trova appunto nella Svizzera. Le nozze sono state celebrate dal sindaco Massimo Seri, appunto nella sala d'attesa del reparto. Invitati speciali, ovviamente medici e infermieri. Ebbene, che cos'è la particolarità di questo matrimonio? Innanzitutto la location, l'ospedale, e poi i due protagonisti. Lei, Bibicecchini, a secolo Emilia, 77 anni finita al centro delle cronache nazionali e internazionali, per il quadro di Isabella d'Este, attribuito a Leonardo, è oggetto di una guerra giudiziaria che ha visto combattere battaglie legali su più fronti, incluso quello tra Italia e Svizzera. Il suo compagno invece Vincenzo Capodanno, che dopo 32 anni di vita insieme, passata in giro per il mondo, ha finalmente coronato anche lui il suo sogno d'amore. Ha dovuto aspettare tanto perché non riusciva a concludere le pratiche del divorzio dalla prima moglie. Alla fine ci è riuscito e quindi il sogno d'amore è stato coronato. Però, insomma, ancora delle nubi all'orizzonte non sono del tutto schiarite perché lei è ricoverata in ospedale perché deve essere ancora sottoposta ad un intervento chirurgico in programma nei prossimi giorni. Ebbene, gli auguri di tutti sono che, prima di tutto, l'intervento riesca bene e la signora riacquisti la salute e poi perché i due sposi possono vivere felici e contenti per tanti anni a venire. Un articolo a fondopagina, sporcizia e schiamazzi, via i ragazzi terribili da quel gazebo. Il gazebo è quello che si trova in via Ciro Menotti. Di giorno è luogo di ritrovo per pensionati che giocano a carte. Di sera invece è un raduno di compagnie un po' trasgressive, un po' chiassose. Aiutateci a mandarle via. E questo è l'appello che giunge appunto dagli anziani. Arrivano Lameloni e Salvini, fratelli d'Italia. Ecco i nomi. Domani due leader saranno a Pesaro e Ancona. Via la campagna elettorale. E sulle candidature Antonio Baldelli è in vantaggio su Ciccioli e Mocchi. Matteo Saldini sarà domani a Pesaro alle ore 16 per una conferenza stampa nella spiaggia davanti all'hotel Excelsior. Due ore dopo Giorgia Meloni sarà in piazza Roma ad Ancona per l'apertura nazionale della campagna elettorale. Non ha torto, Giorgia Meloni ha scelto le marche che è governata appunto da un esponente del suo partito per l'inizio della campagna elettorale. Domani dunque inizieranno i fuochi artificiali, dichiamoli così, in vista del 25 settembre che è il giorno delle elezioni. Intanto ieri Fratelli d'Italia ha trovato la quadratura del cerchio anche se manca l'ufficialità che arriverà poi nella giornata di oggi. Ebbene l'anticipazione del resto del Carlino è che sono posti sicuri assegnati alla coordinatrice Elena Leonardi, alla uscente Lucia Albano e l'assessore regionale Guido Castelli, sebbene le collocazioni ancora non siano del tutto chiare. Comunque questi dovrebbero essere i candidati ufficiali. L'altro posto che dovrebbe portare automaticamente a Roma, un posto dunque sicuro, toccherà salvo sorprese ad Antonio Baldelli. Antonio Baldelli, pergolese, fratello di Francesco che è l'attuale assessore alle infrastrutture della regione Marche. E poi in concorrenza del consigliere regionale Carlo Ciccioli ed è l'ex sindaco di Piobbico Giorgio Mocchi, su cui Antonio Baldelli avrebbe privilegiato, avrebbe così superato i suoi concorrenti. Passiamo ora alla pagina di Fano. Passiamo alla pagina di Fano per vedere l'effetto che hanno suscitato le 90 lettere, ma sembra che siano di più. Il Carlino dice che sono 121. Queste lettere che contengono gli avvisi dell'avvio del procedimento di esproprio per quanto riguarda la nuova Interquartieri che dalla trave dovrebbe portare il traffico fino alla statale adriatica nord, oltre Gimarra verso Pesaro. Gimarra, gli espropri si moltiplicano. L'Ira di Benini, uno dei destinatari, e intanto l'Udc profetizza quella variante inutile. Nel 2023 la nuova amministrazione bloccherà tutto, dicono appunto Del Vecchio e Pollegioni. Gli espropri sono 121, altro che 90, e quanto replica l'assessore Cristian Fanesi, Luciano Benini, uno dei destinatari degli avvisi di esproprio, che sono giunti subito dopo Ferragosto ai destinatari. Non sono lettere ed esproprio, vere e proprio al momento, ma sono degli avvisi che iniziano, che dicono appunto ai destinatari che inizia un procedimento. Ovviamente ognuno era già consapevole di quello che l'aspettava, se la variante poi andrà avanti, perché l'itinerario è stato già reso noto. C'è stata un'assemblea pubblica il 22 luglio scorso nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, dove i tecnici dello studio, che è stato incaricato appunto per redigere il tragitto, hanno illustrato il percorso della variante. E quindi sembra che l'amministrazione comunale sia del tutto intenzionata a procedere e andare avanti, nonostante le proteste dei residenti, del comitato che si è formato contro la realizzazione dell'arteria, è insomma una contrarietà generale degli ambientalisti. Vedremo come poi andrà a finire. Comunque un altro appuntamento è quello fissato per il 31 agosto prossimo in un'assemblea pubblica che si terrà a Gimarra proprio su questo argomento. E poi un incidente, un incidente vediamo finisce fuoristrada e fugge, non era assicurata. E' stato ritrovato un mezzo, una macchina, un'auto, nella strada sopra la chiesa del Carmine in località Belgato di Fano ieri intorno alle 13.30. E' stato ritrovata quest'auto fuoristrada, abbandonata, all'interno non c'era nessuno. L'ha trovata il proprietario di un campo il quale si è avvicinato per vedere appunto se c'era nessuno e quindi ha avvisato le forze dell'ordine, ha dato l'allarma alla Polizia Municipale di Fano. E' stata rintracciata la donna che era alla guida del mezzo, si tratterebbe di una ragazza marocchina del 1997, residente a Mondaino in Romagna, che è risultata priva di copertura assicurativa. Per questo il mezzo è stato sequestrato. Comunque l'incidente sarebbe stato causato da una disattenzione della donna. Forse la velocità, forse un momentaneo mancamento, ha fatto dunque tutto da sola. E poi, vabbè, dopo qua ci sono tutte le altre notizie di carattere regionale. Ci sono diversi fatti di cronaca. Ad Ancona, per esempio, accusa un malore al passetto. Si salva aggrappandosi a una canoa. Si tratta di una 75enne che si è sentita male a largo. Soccorsa da un medico rianimatore. Tamponamento, poi anche un bimbo ferito. Ancora rissa tra nigeriani. Dopo la festa spuntano dei video. E' accaduto anche questo nel sud delle Marche. E' successo sabato a notte a brecce bianche. Il litigio, iniziato in casa, è finito in mezzo alla strada. Va a pescare e non torna a casa, disperso al passetto di Ancona, trovato morto. Si tratta di un anconetano di 60 anni. Era uscito in mattinata. Era un esperto sub. Andava a pescare. Probabilmente un malore lo ha impedito di tornare in superficie. E il corpo è stato recuperato nella tarda serata dai vigili del fuoco. E qua un altro articolo che è un po' caduto ad osimo. Però, insomma, interessa tutta la regione Marche. Il prezzo del metano è salito tanto che alcuni distributori ormai decidono di chiudere, perché ormai non si vende più. E' triplicato il prezzo del metano. E poi ancora continua a salire, dato che la Russia, proprio in questi giorni, ha sospeso l'erogazione del gas. E gli aumenti sono molto sensibili a tutte le decisioni che vengono assunte a livello internazionale. Se in questo momento la Russia decide di sospendere l'erogazione del gas, tra due minuti e nei distributori il prezzo del gas aumenta. È una cosa repentina. È veramente difficile. Ora il gas era poi il carburante a più a buon mercato. Vai a metano perché il gas ti dà una mano, si diceva una volta. Ora non più. Anzi, ora è diventato il carburante più caro, più della benzina. E veniamo ora al Corriere Adriatico. Apriamo la pagina di Fano e vediamo come si parla della Fiera di San Bartolomeo che inizierà il 24 agosto, oggi il 22, dopo domani dunque. Fiera di San Bartolomeo, il rebus della sosta. Ebbene, raggiungere la fiera che si svolge nel lungomare di Sassonia in auto è un problema. Il consiglio ovviamente è quello di andarci a piedi o in bicicletta. Chi ci vuole andare in auto dovrà trovare, faticare a trovare il parcheggio. E in questo articolo vediamo come l'ASET che gestisce i parcheggi a pagamento in tutta la città dà i suoi consigli e quindi indirizza gli automobilisti là dove sarà possibile parcheggiare. Il consiglio ai visitatori andati in bici o a piedi si tornerà alla normalità dalle 8 del 27 agosto. Comunque la fiera si svolge il 24, il 25 e il 26 agosto. Vediamo. Nello specifico tutti i parcheggi a pagamento di Viare Adriatico, compreso quelli tra Viale Ruggeri e Via Bramante, quelli poi anche in piazzale Rastat e in Viale Battisti, tra Viare Adriatico e Via Dante Lighieri e in largo Gerboni, saranno accessibili fino alle ore 20 di domani, martedì 23 agosto. E poi terminata la fiera saranno nuovamente fruibili a partire dalle ore 8 di sabato 27 agosto. Quindi c'è questa parentesi dove i parcheggi a pagamento non saranno più fruibili. Ebbene quali rimangono a disposizione. A disposizione rimangono le aree di sosta nel tratto di Viale Adriatico antistanti il Mercato Ittico e il Porto Peschereccio, oltre all'area di sosta di Via Nazario Sauro. Invariata la situazione del Lido, durante le tre giornate di fiera saranno sempre attive le aree di sosta di Viale Cairoli, Piazzale Amendola e Via Spontini. Dal Lido non è lontano raggiungere poi la Sassonia dove si svolge la fiera. Comunque il consiglio è sempre quello andate a piedi o in bicicletta. Lascia un segno con le cose fatte e quello che andrà poi in eredità. È un'intervista rilasciata dal sindaco Massimo Seri, il quale ha compiuto il giro di Boa per quanto riguarda la sua tornata amministrativa, fa un sunto di tutte quelle cose, di tutti quei progetti che cercherà di portare a termine entro il suo mandato e poi parla anche di quelli che impostati lascerà in eredità al suo successore. Vediamo che sono stati compiuti al momento a livello progettuale investimenti per centinaia di milioni, non decine di milioni, per centinaia di milioni. Ebbene il sindaco Seri dice che sotto il suo mandato Fano è diventata più bella. Si pensi a Via Garibaldi, al Pincio, alla Darsena Borghese e tra breve poi compieremo, ha detto il sindaco, i lavori in piazza a Marcolini, poi in piazza Andrea Costa. Qualificheremo tutto Viale Battisti e porremo mano al Waterfront. Sono tutte trasformazioni già finanziate che contiamo di iniziare al più presto, senza contare i sottoservizi, che sono le opere che non si vedono ma sono ugualmente essenziali per sostenere la qualità della vita. Sottoservizi sono gli impianti fognari, sono le opere di contenimento delle acque per evitare gli allagamenti, sono le opere compiute a Ponte Sasso per quanto riguarda Rio Crinaccio che proprio all'inizio del suo mandato, nella prima tornata amministrativa, il sindaco si è trovato a fronteggiare quando è arrivata una alluvione che ha devastato il territorio. E poi in questo articolo di spalla vediamo l'intervento dell'Udc in merito alle critiche suscitate dall'invio delle lettere di esproprio ai destinatari della variante di Gimarra e poi a fondo pagina l'incidente che si è verificato a Belgatto, la macchina senza assicurazioni di cui abbiamo già parlato. Vediamo anche la pagina di Senigallia, eccola qui in questo articolo. Avviata la demolizione dell'ex vela, l'hotel del porto rinascerà nel 2024, un cantiere per la ristrutturazione interna, in arrivo la riqualificazione delle casette della Darsena Bixio. I lavori in corso nell'ex hotel Lavela che riaprirà, ma con un altro nome, nell'estate del 2024. Il contenuto è il resoconto di questo articolo che appare sulla pagina di Senigallia. Ma noi diamo un'occhiata anche alle pagine generali della regione per vedere la situazione politica in vista delle elezioni parlamentari. Castelli è primo al Senato per quanto riguarda il centrodestra. Baldelli la spunta su mochi, ecco tutti i candidati di Fratelli d'Italia. Le sfide nei collegi uninominali, qui vediamo i nomi che appaiono per la Camera a Pesaro, Ancona, Macerata e nel collegio di Fermo Ascoli. Per quanto riguarda Pesaro vediamo il nome di Mirko Carloni per il centrodestra, di Giordano Masini per il centrosinistra, Rossella Acoto, Movimento 5 Stelle, Federico Talè per quanto riguarda il terzo polo. Per quanto riguarda il Senato invece nella provincia di Pesaro Urbino sono candidati Antonio De Poli per il centrodestra e Marco Bentivogli per il centrosinistra. Rachele Silvestri, l'ex commessa del Movimento 5 Stelle alla conquista del Parlamento con Fratelli d'Italia. Si parla della parabola della deputata Ascolana. La vediamo in questa fotografia. Rachele Silvestri nel 2021 è diventata meloniana e per lei c'è un posto blindato in Abruzzo, quindi una carriera molto rapida per questa politica. Uninominale, il Movimento 5 Stelle ha scelto le sue punte via la campagna elettorale. Gli uscenti sono Fede Migliozzi e Acoto con Santarelli al maggioritario alla Camera. Al Senato invece l'Avvocato Melini per la sfida su Marche Nord, mentre al Sud c'è Cataldi. Vediamo il riassunto in questa tabella per i candidati del Movimento 5 Stelle. Uninominale al Senato a Marche Nord, Samuela Melini a Marche Sud e Roberta Cataldi. Nel proporzionale al Senato Roberta Cataldi, Verusca D'Ascenzo e Sergio Romagnoli. Le uninominale alla Camera, invece per il collegio di Fermo Ascoli e Giorgio Fede, Macerata, Mirella e Migliozzi, Ancona, Gabriele e Santarelli. A Pensaro invece prevale Rossella Acoto che ripropone la sua candidatura. Rossella Acoto era sottosegretaria al Ministero del Lavoro, appunto senatrice per il Movimento 5 Stelle. Il proporzionale alla Camera, Giorgio Fede, Rossella Acoto, Gabriele Santarelli e Mirella e Migliozzi. E poi abbiamo qua un altro articolo che punta la sua attenzione su un candidato. Si tratta di Stefano Puzzer, 45 anni. E' finito sotto i riflettori per aver guidato lo scorso autunno la protesta dei portuali di Trieste contro il Green Pass. Il no Green Pass Puzzer corre a Pesaro e candidato. Era uno dei leader del Movimento contro il Green Pass. Voglio un sano confronto con Ricci, ha dichiarato. Candidato alla Camera da Italexit. Capolista al Senato invece è l'infermiere Novax Palladino. Anche i Novax dunque hanno i loro candidati. Siamo ormai in conclusione. Voglio soltanto segnalarvi i lavori che si stanno compiendo a Pesaro nelle vie Curri e le Passeri. L'accelerata del Comune, quattro mesi per finire. Oggi scade la domanda di partecipazione delle ditte che hanno risposto alla richiesta di interesse. La consegna dei lavori è a settembre. Per quanto riguarda lo sport, vediamo che la vis Pesaro fa riemergere l'ipotesi sodigna, confermati i contatti con l'entourage dell'ex Brescia e Modena, ma le priorità sono un esterno di sinistra e un mediano. Ancora i biancorossi cercano di sistemare l'organico della squadra per quanto riguarda i rispettivi ruoli. Invece per l'alma Fano è stata una gara, quella di ieri, fortunata. Padovani stende la vigor. Fano con il vento in Coppa. Bello il titolo. Non è in poppa, ma è in Coppa. Non a caso. La squadra Granata infatti vince il derby con il Senigallia per 1-0 nel turno preliminare. La rete decisiva arriva nel finale di primo tempo con un perfetto rasoterra. Ospiti erano rimasti in dieci per l'infortunio di Baldini, ma perria la palla del pari e poi ci pensa un super Bizzini. Quindi il risultato è stato favorevole ai Granata. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani sempre alle ore 7. E per le notizie del giorno non perdetevi. Occhio alla notizia questa sera alle 20.30 su Fano TV. Grazie per l'ascolto. A risentirci.